ciao ragazzi qui Andrea questo qua è un nuovo video di minecraft aspettate un attimo con Alessandro il mio amico infatti non è il mio solito postazione la casa di Ale perché sono a casa sua e quindi poi e da oggi poi faremo i giti insieme a meno che ero un suo io cioè non siamo insieme giocheremo a SG7 e faremo un po' di parkour per farmi infatti io sono già la che sto facendo le provate ecco Ale aspetta dove cavolo sto andando non si carica il mondo non si carica il mondo ma perché hai detto di Alex vedi che è perché l'altra volta che stavano giocando ah mi stai guardando tre parti eh infatti indovina chi tipo indovina chi no doveva trovare chi eravamo io avevo messo Alex ah bello studio eh non ti ricordi il cavo messuale oh guarda c'è una specie di grotta allora a me non mi si ricarica il mondo non mi fa neanche andare dove non ti vedo forse non so neanche cosa vediamo sg 7 no sg sei lo spawn si non ti va no 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 e si anni su minecraft se li provo no io questa parte non la vede lo tagliamo e non posso tagliare come no non posso tagliare alle equipaggiato proprio a masco perché con questo in questo programma non posso dire ci stanno sentendo dai america voi non avrete capito niente neanche io perché se è tolta la webcam non lo so adesso la rimetto aspetta dov'è quella cosa che trova no aspetta la cosa che ha trovato nasa devo andare speriamo infatti sono solo le sei le quattro e mezza guarda che ho trovato uno yacht attento non ci può entrare scusate ragazzi questo video durerà poco ma almeno non so perché so devo andare via con so magari poi ci mi chiamo con aleppo giochiamo sg7 per casa mia se ormai questo non ti fa entrare non si mi sa che devo mettere la 0.14.1 che pizzo non che pizza che pizzo non che pizza che pizzo io non vi do sempre le cose vabbè io c'è Deadpool anche io c'ho la skin di Deadpool cos'è un supereroe stai vivendo un mercenario un mercenario ci ammazza tutti un like bro un like bro spero che questo video vi faccia divertirmi un po' io ale gioco nel mio mondo cavolo è come una custom map tipo sono sparano in un'isola senza niente senza cibo io faccio infatti quello che avete visto che ero morto cosa hai messo come come seme? perché non puoi entrare però io a me non entro nello stesso mondo però non sto più contento dimmi qual'è il seme 1,9 1,9 1,9 no aspetta seme eh eh non c'è c'è solo l'indirizzo P eh aiuto si ti ammazzo ti ammazzo ti ammazzo ti ammazzo ti ammazzo gioca hai ruttato non ho ruttato cacchetta ciao ciao no non è ciao ciao è questo mi seme 10 aspetta 10 8 7 5 8 7 5 1,0 1,0 5,6 5,6,9 5,6,9 ragazzi se volete giocare nel mio stesso mondo però non con me che è più figo che no sono tutti increati come come ho fatto increati eh potete esimmelo questo qua potete mettere stop al video lo mettete e potete giocare tipo come una custom map 1,0 come dai a lei dovevo registrare cavolo 8,7,5 8,7,5 1,0 1,0 1,0 5,6,9 5,6,9 5,6,9 fatto come se sopravvivenza We are the champions adesso vi faccio vedere no ah ok pensavo che avevo l'avete ui c'ho delle pecore e anche io ho zio io c'ho zio ho tre pecore anch'io no io no adesso possiamo entrare finalmente censuriamo sta parola va bene no cos'è buio cos'è buio devo fare una cosa veloce scusate ragazzi non lo farò più mi sono messo mi sono messo cosa vabbè ci sono maiali ma non li vorrei uccidere 20% magari ce li tieni no no utilizzo batteria scusate ragazzi ma ogni volta che devo registrare ho un casino un casino c'è un uovo meno male che avevo messo tutto nella cesta non mi avevo detto non sono studi perché non me lo metto nella cesta ciò bel maiale ti vuole uccidere per la tua bella carne succulenta ma prendo le pecore però l'ammazzo e mi piacciono anch'io almeno le pecore qua c'è un maiale potrei fare potrei farmi una farm di polli è l'unico cosa che posso fare con le uova oppure con i sedini ok come l'ho rotta dove è un altro pezzettino di là c'è pure un'altra cosa che ci farà un bel ponte per collegarlo fai zappa mi serve la zappa dove ho fatto il mio mio fantagione bobbibibu fantagione devo prendere la terra no ragazzi non dite mica dovevo farle accoppiare le pecore io mi sparo io mi sparo ma è un po' il muore che potrebbe anche risponare tra due anni anche di più meno di meno dove ho fatto la mia farm ciao non male che è la mamma di diana eccola qua ho fatto una quanto so stupido è meno che non l'ho saltato io vabbè vado subito a sistemare sistemare uno dieci me ne ho fatto in questo faccio copiare i polli non si sa mai aspetta mettiamo i polli dai li ho piantati io magari ce ne fossero così tanti con un albero me l'ha troppato in sei vieni qua bel pollo mi faccio solo ok zio adesso visto che ho già la zappa in legno vai fatti fatti la piantagione anch'io me la sono fatta ma possiamo sopravvivere solo con quello Ale ti consiglio mi sono messo adesso pianto sto albero prendo il seno Ale non ti consiglio a chiudere subito i polli e infatti io puoi passare il volo qua ok facciamo ancora due minuti per spiegarmi il mondo e poi stacco perché poi viene troppo lungo ci mette tipo tre ore e poi non me l'ha caricato perché ho fatto tipo tre video e non me l'ha caricati ok no sono pazzo sono pazzo fermatevi pazzo curioso eh 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 sono pazzo curioso sfama non ce ne erano due di polli però mi tirano un po' di like sai si ma va c'è si speriamo eh 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 peccato che il maiale non si è possibile occupare con il grano così avrei risolto la mia cosa puoi accoppiare le pecore e le mucche le mucche puoi accoppiare eh lo so oh no ho trovato l'acqua magari ci fosse una bella mucca ho dovuto spettare tutta la mucca ci sono un pollo? mi sono dovuto spettare con le uova però è più figo mi staccone non c'è un cavolo co 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 non c'è niente da bolle il pollo è uno e là ma c'è solo un pollo e due maniali dai però io posso farmi solo una spada dieci mi faccio una piccola base in terra no vabbè poi la faccio io cerco di cerco che voglio sti alberi per vedere se mi droppo una mela nooo 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 vai appena mi droppo una mela finisco il video ok non c'è non c'è non c'è appena arriva via l'alba ciao ragazzi mettete like ciao 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 ci aspetta ci aspetta ci aspetta ci aspetta ci aspetta devo finire il video finisco il video stavo registrando scappi di la scappi di la ciao ragazzi qui Andrea alla prossima quanti like? 3? 3 like io voglio 3 like ci stiamo però non dei miei compagni non dei miei amici da voi li voglio da voi che oh zi posso farmi il letto ciao ragazzi alla prossima ciao addio